Dopo le due sconfitte consecutive, l'isernia di Mister Silva rialza la testa a farne le spese. È una vastese che non impensierisce molto i pentri, ma cerca di essere pericolosa fino alla fine. Giù la testa a costruire gioco e nei primi minuti i bianco-celesti sono già pericolosi. Al nonno minuto è fazio approvarci, ma la sua conclusione è messa in angolo da Selva. Sugli sviluppi dello stesso riceve Barretta ed ecco servito l'1-0 dei locali. Di lì a poco il marcatore della gara dovrà lasciare il terreno di gioco per un infortunio. Ora il compito dell'isernia è mantenere il risultato con una vastese che costruisce, ma sbaglia sotto rete, come al ventiduesimo con Stivaletta che manda di poco al lato. E al trentanovesimo, dove dall'angolo battuto da Fiore ci prova in rovesciata del Duca, ma la palla è fuori. Al quarantacinquesimo ancora Fiore si posiziona e va al tiro che termina sulla traversa. Sul vantaggio di casa si guadagnano gli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. Il ritmo di gioco è da subito molto intenso. Al quarto minuto Fazio serve Cristiano, che però ci abbatta fuori da buona posizione. Di lì a poco è Di Matteo a trovare la conclusione, che è deviata in angolo. Vediamo la vastese al nono minuto, con Palestrini, che trova lo spazio per il tiro. Ci prova dalla distanza, ma la sfera è alta. Subito dopo è la volta di Leonetti, su assist di D'Alessandro, ma ancora nulla di fatto. Al venticinquesimo, buona occasione, Leonetti di testa, respinta di Landi, si avventa a Shiba, ma Di Leonardo salva. Al trentaduesimo, Shiba arriva alla conclusione, ma Landi si rifugia in angolo. E poi la volta di Leonetti, ma l'uno di casa blocca. Siamo al quarantunesimo, Selva respinge la conclusione di Fazio dalla distanza, Douglas appoggia per Vitale, che trova ancora una respinta. Al quarantaduesimo, di nuovo Vitale, che va a servire Romano, che colpisce male e manda alto. Termina così l'incontro, Lisernia tiene duro e porta a casa i tre punti meritati.